Le stesse cose, le stesse cose. Allora la partita di ieri sera, passano subito la parola, ribadisco quello che ho detto nella trasmissione precedente. La partita di ieri sera ha avuto molte analogie con il derby. Allora, il derby l'Inter l'ha perso grazie alle illuminanti idee del suo allenatore. Ieri sera c'è stato il remedi. Lui ci dice, ci informa che per 70-75 minuti l'Inter ha fatto gioco, ha fatto la parola. Mi spiace tanto perché è chiaro che io sono di quella parte là, ma tu l'hai persa tu anche ieri sera. Allora, ieri sera, a parte che qualcuno ha visto una grande partita, il gioco del calcio è una cosa di cui possiamo discutere fino a domani mattina e non saremmo tutti d'accordo. Ma io non lo so. Una grande partita, una bella partita. Un tiro in porta dell'Inter, due tiri in porta del Liverpool, due gol. Le grandi partite ci fanno con tante occasioni da gol. I tiri nello specchio della porta, dello specchio della porta, perché la traversa non è nello specchio. Non fa parte dello specchio della porta. E lo dicono gli addetti di lavoro. Per cui i dati statistici ci dicono tiri in porta dell'Inter, zero tiri in porta, nello specchio della porta. Concediamole un tiro. Poi ha preso la traversa, ha preso un palo, eccetera. E due tiri di loro? Poi loro due tiri, loro due tiri. Siamo d'accordo. Resta per il fatto che c'è anche un altro aspetto. I due gol subiti, a mio modo di vedere, deve essere criticata la difesa, perché ha preso due gol nella propria area. Portiere compreso. Portiere compreso, è ovvio. E intanto c'è il gol del Porto, pareggio del Porto. Colpo di testa da parte di Martínes, che batte il portiere della Lazio. Chiaramente stiamo parlando di Stracoscia. 1-1. Chiaramente una doccia fredda, perché la Lazio più volte, e anche un minuto prima della rete del Porto, è andata vicino al doppio vantaggio. Adesso riequilibrati i conti. 1-1. Ragazzi, siamo al trentottesimo minuto di gioco, quindi c'è ancora tempo. C'è ancora tempo, ma vorrei sapere, Luciano Moggi, che cosa pensa di quanto è successo ieri nella sconfitta dell'Inter. Perché tanti dicono che sia stata una partita molto equilibrata a fase di gioco, no? Poi però i gol parlano chiave. Allora, secondo me è stata una partita molto equilibrata nel non gioco. Nel senso che quando squadre tirano poco in porta in quella maniera, significa che non sono attrezzate adeguatamente. Penso che su questo non ci sia dubbio. Che il Liverpool abbia fatto due gol con due tiri, ci sta. Su questo non c'è dubbio. Che l'Inter possa essere stata sfortunata per la traversa colpita da Siananoglu, è altrettanto vero. La sostanza qual è? È che ha vinto chi ha tirato leggermente di più in porta. Che poi dopo sia stata una squadra che ha dominato? No, assolutamente. Perché l'Inter, giocando, ha fatto vedere qualcosa in più del Liverpool per 70 minuti. Però qualcosa, senza poi mettere a frutto quello che faceva vedere. Perché se uno gioca bene al centrocampo e poi dopo non riesce a tirare in porta, vuol dire che non gioca bene né al centrocampo né al centrocampo né al centrocampo. No, no, ma non è pure vero questo allora. Però nelle giocate l'Inter ha dato qualcosina in più rispetto al Liverpool, ma non ha tradotto né la sostanza. Quindi quando uno non traduce né la sostanza significa che può anche perdere giocando discretamente. Luciano, tu hai visto qualche analogia di ogni tipo tattico, tecnico, di qualità del gioco, di estetica, eccetera, eccetera, tra il derby e l'Inter e il Liverpool ieri sera? Ma guarda, io se tu hai letto quello che ho scritto, Danilo, se tu hai letto quello che ho scritto, io ho scritto che il derby praticamente l'ha perso l'allenatore. E certo. Quando fa quei cambi, praticamente, che distruggono il cervello di una squadra di calcio e mettono al posto di uno che ragiona, Vidal, vuol dire che praticamente o è sicuro di vincere la partita e poi la perde, ma comunque c'è qualcosa che non ha funzionato nei campi. Su questo penso che non c'è nulla. Pensa all'analogia. Il derby è stato sbloccato al 75esimo. Nello stesso minuto, nello stesso minuto, al 75esimo, l'Inter ha subito il gol anche in in Europa. Quindi di conseguenza. Poi concludo. Nelle ultime quattro partite l'Inter ha subito otto gol nell'ultimo quarto d'ora. Quindi è un fatto che si ripete. Sempre all'ultimo. Infatti assist perfetto. Nell'ultimo quarto d'ora. Franco, secondo te l'Inter nell'ultimo periodo tende a subire un po' troppi cali di concentrazione sul finire di partita in quell'ultimo 20-15 di blocco? C'è una leggera flessione. Qualche volta mascherata bene perché è vero anche che nel finale di alcune partite è riuscito a prevalere, a risalire la corrente. In altre, dal derby in poi le cose si sono complicate ulteriormente. Ma a proposito dei cambi, io oggi ho avuto l'occasione di sentire per la radio dove parlo Roberto Boninsegna che dice entra avanti se mi intende. Secondo lui se l'Inter avesse tolto Vidal e messo Hernandez lasciando Lautaro le cose sarebbero andate diversamente. Non so se Moggi condivide. No, io condivido dal di fuori si può dire tutto e di più. Il problema di fondo qual è? Quando tu togli, Franco, quando tu togli alla squadra la testa perché hai tolto insieme Sianaloglu e praticamente Brozzo mi dice a quel punto lì non puoi lamentarti. Tieni anche conto che l'Inter ha dovuto fare a meno di un giocatore fondamentale, Barrella. Come parevo. A prescindere. Sì, sì, no, ma vedi Tiziano. No, no, no. Dovrà farne a meno anche nella prossima partita. Ma nonostante tutto non puoi fare quei cambi lì che sono o dimostrano che tu pensi che la partita è già vinta oppure ha sbagliato clamorosamente perché togli immediatamente il pensante, anzi i due pensanti in una squadra di calcio che possono anche concludere in gol. l'attenzione perché Sianaloglu ha anche il tiro per fare gol. Da ipercritico, Luciano Tiz, forse l'ho già detta prima ma Luciano non era presente. Allora, da ipercritico e da passatista, datemi pure del passatista, io ho disegnato questo tipo di ritratto del signor Inzaghi Simone. Inzaghi Simone è uno dei migliori allenatori che non ha mai inventato niente e mai inventerà. Ecco. No, perché fa delle cose sui cambi. Se l'aveva già sperata. Tu ci hai raccontato, Franco, che alla Lazio appena il primo ha munito fuori perché aveva paura del rosso che arrivasse il secondo cartellino. Sì, ma ci vuole un po' di testa prima di fare certi cambi. 3-4 alla volta. Ma tu che cambi avresti fatto? Non puoi dire una cosa del genere. Sai perché? Perché se rimani in 10 è perché il giocatore che è stato ammonito è abbastanza falloso e se rimani in 10 hai un problema di inferiorità numerica abbastanza importante. Allora facciamo un regolamento che invece del giallo è subito rosso e semplifichiamo la vita al signor Inzaghi Simone. Vabbè, ma lui è contro praticamente a tutti quelli che non fanno vincere l'Inter. Questo qua. Oh, eccolo qui. Pardon, il gol dell'Atalanta con Pessina. Credo sia buono. Attenzione. No, fuori gioco. Fuori gioco. Ci siamo fermati un attimo, difatti, anche perché i calciatori dell'Olimpia... Come non detto. Questa è una serataccia. Non è una serata fortunata. L'avevo capito da Crudeli che era malmostoso all'inizio. Allora dico, ma io brutta serata. C'è un sguardo... Se ti sto sulle balle puoi anche dirlo, perché non è che tu mi sia molto simpatico stasera. No, che c'entra. Mi hai sempre trattato bene improvvisamente stasera. Non mi saluti? Ma non ti capita mai! Ma non lo so. Allora, intanto diciamo... Ma come mi tratti? Intanto diciamo che c'è barri in corso. Un attimo di attenzione perché abbiamo un certo. Se barri in corso perché chiaramente stanno verificando, tirando le linee... Infatti da Piolis, abbiamo avuto dei risultati positivi. Ci sono le linee tirate in questo momento in corso per verificare se il gol di Pessina è buono. Intanto è cambiato un altro risultato con il nuovo vantaggio del Sevilla contro la Dinamo Zagabria che aveva pareggiato dunque. Adesso il Sevilla è nuovamente in vantaggio. L'arbitro però conferma l'offside dunque si resta sul risultato di 1-0 per l'Olympiakos. Tu l'hai visto fuori gioco o no? Sì, avevo avuto sensazione sia di Muriel che poi di Pessina. Per questo poi mi sono fermato subito senza avere particolari entusiasti. Per concludere questa politica dei cambi, questa discussione, Danilo, tu che cambi avresti fatto? Fosti stato nei panni di Inzaghi? No, lui è meglio che noi faccia i cambi. Non so, magari non avrei fatto neanche i cambi. No, Danilo, non ti esprimere. No, visto che hai detto che non eri d'accordo, vorrei sapere perché non eri d'accordo. Cioè, chi avresti messo? No, non volevo giocare. Avrei lasciato in campo i tre che stavano e stava dominando l'Inter. Che cosa vai a toccare? Cosa tocchi quando ha fatto i cambi? Il risultato com'era? Qui ha ragione Danilo, quando tu praticamente a 15 minuti dalla fine hai un risultato acquisito non puoi fare i cambi, soprattutto destabilizzando un qualcosa che funzionava bene. La cosa strana è che funzionava bene, quindi il problema di fondo… Scusate, Lautaro sta attraversando un periodo di involuzione. Ma io non discuto Lautaro. È da 11 partite che non segna in Europa. No, ma Tiziano, io non discuto mica Lautaro. Io discuto quando tu togli una testa e poi ne togli addirittura due. Perché sono all'ogro, volere o non volere. E Brozovic sono quelli che comandano il gioco. Ma come spieghi che invece Pioli con le sostituzioni ha ottenuto dei risultati? Ma io ti spiego, bisognerebbe che conoscessi lo spogliatoio del Mila come conosco altri spogliatoi. Il problema di fondo è che lui indubbiamente ha indovinato quasi tutto, attenzione. E poi per esempio quando mette Brian Diaz, praticamente che dimostra di spaccare la partita, capisce perfettamente che ha in mano un qualcosa di diverso, che in velocità può mettere in difficoltà tutti i quali. Insomma, l'abbiamo capito, un zatti criticato, ma lui come risponde? Come decide di rispondere ai tifosi? Ve lo svegliamo tra poco. Allora, lì era mancante di reparto attaccante completamente, ma era una squadra squilibrata. Voi avete visto una partita, quella lì, dove ci sono state mille occasioni e mille occasioni sprecate. Perché? Perché tatticamente era una partita di tutti i marcatori a tutto campo, praticamente bastava che uno perdesse il pallone, che c'era un'azione di riflesso. Per cui adesso parlare dell'Atalanta, qui ecco, se andiamo a cercare le squadre favorite, prendiamo il Sevilla e sicuramente è una squadra che procederà in un senso positivo. Però l'Atalanta in questo contesto, in questo momento, dove praticamente si è salvata l'anno scorso, è partito praticamente, o chi sapete, perché Muriel ha fatto dei miracoli. E i miracoli non li ripete. Muriel i miracoli li fa un anno solo, due, è troppo per due. Sei d'accordo Alberto? Ho parlato il direttore. No, no, chi ho parlato il direttore? No, no, però nel senso... Non è depositare la verità, però anche pensare in maniera diversa. Non è che dovete... Non lo so. La sto vedendo... Scusa, non è che dovete prendere... No, no, ma chiaramente però... Ci mancherebbe rispecchiato... Ma no, secondo me l'Atalanta con la Juventus hanno giocato un'ottima partita. Sì, no, l'ho detto, io la disco e continuerò a dirlo. Ma no, ma quello è fuori di dubbio, però leggevo il ragionamento fino a fine stagione. E tu poi vai a sommare la partita, tatticamente, perché un allenatore deve guardare le partite per come si svolgono, Tiziano. Allora lì ci sono stati un mare di occasioni sprecate davanti al portiere e tanti capovolgimenti di fronte dovuti a mancanza di interventi delle difese avversarie o dei mediani. Il che vuol significare una squadra combattuta, certo. Io credo che sia stato più divertente Atalanta e Juventus di altre partite. Assolutamente. E lì vedere tutte le occasioni sprecate, vedere i capovolgimenti di fronte, uno si diverte. L'allenatore si diverte meno. Su questo penso... Però chiaramente per fissare un po' appunto i puntini... L'assenza di Muriel quest'anno sta diventando molto pesante. Perché tolto Zapata che è un macigno di davanti, chiaramente senza anche Muriel c'è praticamente... Ma no, ma infatti all'Atalanta gli manca soprattutto il centro davanti che tira in porta, no? Perché poi dopo prende coraggio tutta la squadra. Qui, pensate, ha fatto un gol malinoschi strepitoso. Assolutamente strepitoso. Ma voglio dire, una volta ogni morte di Papa si fanno quei gol, no? E per cui il problema vero è che è stata una partita divertentissima. Meno per i dirigenti della società dell'Atalanta e meno per i dirigenti della Juventus. Allora, lasciatemi tornare all'Inter. È vero che vi avevo promesso la clip di Inzaghi sulle risposte ai tifosi, ma visto che siamo prossimi alla pubblicità, vi leggo invece un'altra dichiarazione, quella di Ivan Zazzaroni, perché dice in Champions League più avanti si va e più si invertono le parti, i rapporti di forza, per agganciarvi un po' a quanto stava dicendo anche Moggi, soprattutto per le italiane, ed è successo quello che in fondo ci aspettavamo, dice Danilo. Chi lo dice? Ivan Zazzaroni. Vabbè se lo dice Zazzaroni. No, lo voglio usare un po' come provocazione, non nei tuoi confronti. Sì, sì. Tutto sommato l'osservazione è anche giusta. Resta il fatto che un discorso del genere ci fa tornare a quella discussione che abbiamo avuto prima che il direttore arrivasse. Allora gioco la palla per il direttore, perché qui si aggancia alle righe scritte da Zazzaroni. Zazzaroni, tra l'altro è stato qui con noi, fare Zazzaroni a sette gol. Sì, sì. Uno bravo, direttore di Corriere dello Spunt. Certo. Allora, scusami, Luciano, la domanda è questa. La esauriamo, spero la esauriamo in pochi secondi. Anche perché poi anche Franco vuoi venire là su. Luciano, il grande Luciano Mogi, che io non voglio mica fare della... Sì, va bene. Adesso non voglio... Non voglio fare, dai. No, io ho sempre considerato Mogi, dopo Allodi, il migliore manager della storia. Sì, va bene, dopo Allodi. Ho aperto l'affare. No, Luciano, l'invenzione, l'idea dei cervelloni dell'UEFA di cancellare una certa parte del regolamento secondo cui il gol in trasferta non vale più doppio. Secondo me non ci sta proprio. Secondo te invece sì. Ma che senso... No, il senso. Il senso qual è? No, secondo me ci sta perché è controsenso far valere in trasferta un gol doppio. Franco era più bello quando valeva doppio? Sì, era più bello perché... Davi più peso alla trasferta. Davi più possibile in tanti risultati sorprendenti e avevano più possibilità di... Questo senz'altro. Sì, però, Franco, è equivalersi praticamente con un gol che vale doppio e poi dopo... Guarda un pochino quello che hanno fatto le squadre che si sono avvalse anche del gol doppio. Zero. Abbiamo un aggiornamento, Alberto. Perché praticamente hanno sempre vinto le stesse squadre che praticamente vincevano in casa in trasferta senza bisogno del gol. Abbiamo un aggiornamento. Sì, più che altro un'anticipazione per dare poi merito anche quello che diceva il direttore che parlava dell'attacco. Sì. Nell'Atalanta adesso entreranno... Sì, ma non mi date tanti meno. Boga... Ma adesso, solo perché sei appena arrivato, puoi da un po'... No, entreranno... Giusto per dare il bentornato. Siamo carburandolo. Entreranno Boga e Copminers. Ok. Copminers che aveva fatto benissimo contro la Juventus nel ruolo di trequartista. Boga è un buon giocatore, però non è un attaccante. Non è un attaccante. Però Boga... Possiamo detenere un attaccante. Boga è una mezza punta. Boga è una mezza punta. Ha bisogno, Boga, di creare gli spazi a uno come Zapata, che però sta all'ospedale. Eh, vedremo se... Questo è il punto. Luciano, io non ho molto capito. Non ho molto capito e ti dico una cosa velocissima e spero che tu mi risponda velocissimamente. Velocissima. Allora, io gioco in casa di Tiziano Crudeli e la partita finisce 2-2. Vai cominciare. Partita di ritorno in casa mia. Faccio... Faccio tre... Anzi, il contrario. 2-2 e 3-3 passo io. Telegrafico, direttore. Sentiamoci... Se fai tre gol da una parte e due dall'altra, passi che fa tre gol. Su questo non c'è dubbio. La partita in casa mia finisce 2-2 e vado a giocare in casa di Crudeli e faccio 3-3. E vincite, vincite, è chiaro. E lui dice che non ha senso. Adesso non è più così. Ma non è più così, ma è pure giusto. Ma non è giusto perché deve essere giusto. Allora, dobbiamo fermarci. Voglio rincuorare chi ci sta seguendo a casa, che non deve più arrivare nessuno in trasmissione. Quindi, noi risentiremo per la terza volta questo ragionamento. Secondo me lo sentiamo ancora. Ne parla tutto il mondo del calcio. Oh, sono tutti là che parlano. Ma è vero che stavano menando? No, non è vero. Eh? Ce la fai? Cami inonda. Ma davvero? Certo. Più che altro, che messaggio dai alla squadra? Se dici, per fortuna squadre come il Liverpool non si affrontano sempre. Cioè, sembra un po' quasi, no? Che tu stia dicendo Ubi Maier-Minor-Cessat. È un difetto inferiorità. Il problema vero, ste dichiarazioni, lui magari non ha esperienza, ma ste dichiarazioni non sono giuste pubblicamente. Si può elogiare la squadra, ma non si può mai dire, per fortuna incontriamo il Liverpool prima volta ogni tanto. Eh, Daniel, forse un po' meno, no? Sì, ma no, ma sono cose che si dicono tra i quattro muri dello spogliatoio. Non si va a dire delle cose così. Conferenza stampa di... Sono cose delicate, bisogna misurare... In certe situazioni bisogna misurare le parole. No, ma infatti un allenatore che dice così, il giocatore può dire tranquillamente, allora che giochiamo a fare? Sì, sì. Se questi sono superiori... Sì, sì, tanto sono superiori. E così l'allenatore può perdere, il giocatore può perdere la stima dell'allenatore medesimo. E come, scusami, Francone, senti cosa ti dico, le dichiarazioni che qualche giorno fa ha fatto Mourinho sui giocatori dicendo qualcuno si merita la Serie C, ma no, ma no. Mourinho fa... Aveva Mourinho, lo sappiamo, che il giocatore perde poi. No, Mourinho è un capitolo a parte, perché quando perde... Mourinho è furbo... Perché poi ha pareggiato tra l'altro l'ultima dica. È furbo Mourinho, attenzione, fa per dirottare l'attenzione delle persone. Che che ma fai... Certo, così non si parla da... Perché così non parlano della Roma, perché parlare della Roma con Sassuolo vuol dire parlare di una squadra che non ha nessuna ambizione e non può avere nessuna ambizione. Pareggiata poi in extremis. E poi dopo è arrivato il gol... Scusa, diciamo anche un'altra cosa. Gol del Porto. Dietro, mi scusi, il gol di... È arrivato il gol del Porto. È arrivato il gol del Porto. Tu sei, il Porto in vantaggio con Ottavio che ha... E' un pallone che arrivava dalla fascia... Non è Ottavio, è Martínez. Quindi doppietta di Martínez. E adesso per la Lazio non si mette certamente bene. Non si mette bene. È arrivato un cross dalla fascia, probabilmente un buco difensivo anche in questo caso. È un buco lì, è un buco grande come una caverna. Eh sì, non è stato ben controllato. L'aveva anche intuita il portiere, però. Stracoscia c'era quasi vicino, però chiaramente non è facile. Era in vantaggio di si faccia di montare. Il problema è che non le para, Stracoscia. Le intuisce solo. Franco, visto che siamo da te, approfitto per chiederti un commento sulle parole di mister Inzaghi, che forse non ha trovato esattamente le giuste affermazioni per rincuare un po'. No, a me non ha fatto questo scandalo. Lui già in serie di vigilia aveva detto, insomma, il Liverpool comunque è un'eccellenza, credo sia tra le prime cinque squadre del mondo. Esatto, di quello che è il calcio. Prendete Mila, Juventus, Inter, no? Sì. E capite perché queste società di calcio devono comprare e non vendere. Perché se falliscono dei risultati vengono aspramente criticati perché hanno venduto dei giocatori. L'Atalanta, se arriva... Questi hanno l'obbligo di vincere i campionati. L'Atalanta, che se arriva terzo o quarta ha vinto il campionato... Però l'Atalanta ha l'obbligo di andare in cento. No, no, aspetta, no. L'Atalanta, se arriva terzo o quarta, è come se avessi vinto il campionato. Perché per caso il presidente suo tiene più al bilancio che non a vincere il campionato. Tant'è che il bilancio dell'Atalanta è in ordine perfetto e lui vende i giocatori tranquillamente. Mi ricorda qualcuno? Prego? Mi ricorda qualcuno, visto che poi domani c'è il derby e io sono granata. Però non voglio approfondire la parentesi del presidente Cairo. Apri e chiudo, chiaramente, detta solo come tifoso. Ci mancherebbe. Ma domani guarda è una partita difficile. Abbiamo modo di approfondire questo tema tra pochissimo. Possiamo concludere, per mi piace, voi aprite cento parentesi. Noi stavamo parlando di Inter. Vediamo, per favore, regia, i prossimi turni dell'Inter, il calendario dell'Inter, per capire come effettivamente possa andare a... Ah, è una passeggiata, Vittoria, è una passeggiata il calendario. C'è il Sassuolo, domenica, eccolo, eccolo qua, grazie alla nostra regia. Allora, e abbiamo, come vi stavo dicendo, domenica 20 di campionato Inter-Sassuolo, si gioca alle 18 e voi la seguirete insieme a noi. Poi abbiamo il 27, la partita col Genoa. Poi abbiamo Coppa Italia e il derby. Eh, Tiziano, attenzione, perché vediamo se sarà la copia del campionato. Poi Salernitana, ovviamente il ritorno con Liverpool, Torino e Fiorentina. E effettivamente, come diceva Franco Melli, tolta chiaramente la partita di Champions e tolta la Coppa Italia, dove hai di nuovo il derby, non hai delle big da affrontare. Il discorso sbagliato che facciamo è questo. Perché non è detto che una squadra, una Salernitana o un Cagliari non sia in grado di ribaltare i pronostici. Tu in realtà dici così perché domani, no, dopo domani tu Milan scontra la Salernitana. No, 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 lo dico perché io ho perso due... Io, Milan, ho perso con lo Spezia, a parte l'errore arbitrale. Ma ho subito una lezione di gioco da Sassuolo in casa. E allora chi avrebbe potuto dirlo prima? Nessuno poteva pronosticare un Sassuolo che veniva a San Siro e dominava il Milan sul piano di gioco, oltre che del risultato. Errata corrige, errata corrige, diciamo così, sulla carta sono squadre più facili da affrontare o quantomeno di media bassa classifica, Franco Melli? Ma è chiaro che l'incidente nel calcio può sempre capitare, può sempre capitare. La Roma ha perso uno scudetto che è diventato famoso con Lecce che era già retrocesso. Però io penso che il derby abbia fatto bene... Oggi dobbiamo fare delle valutazioni diverse, per un motivo molto semplice, che gli incontri ravvicinati, si gioca ogni tre giorni, possono influire sul rendimento di una squadra, rendimento fisico e atletico di una squadra. Indipendentemente, è chiaro che se metto sul piatto della bilancia i valori dell'Inter o del Milan contro la Salernitana dico non c'è partita, o contro il Genova o contro un'altra qualsiasi. Però poi cosa succede? Succede che arrivano dei risultati imprevisti. Allora non devi aspirare allo scudetto però, cioè una squadra che punta allo scudetto, siamo a febbraio, quasi alla fine di febbraio, se dice, beh, le deve vincere tutte, parliamoci chiaro. Beh, ovvio che le deve vincere tutte. E in campo ci vanno per quel motivo. Poi capitano situazioni che finiscono per complicare l'esito del berg. Te devi far dare una benedetta. Te devi far dare una benedetta. Al volo, sentiamo tutti. Allora. Vai, vai. Vai a qualche appazzia che fai dare una benedetta. Una volta in Cialernitana non si giocava neanche, o quasi. No, ma c'è una certa ragione, tizia, a dire sta roba. Queste partite, Danilo, ti possono aiutare in un qualche modo a preservare il titolo dell'anno scorso? Scusa, ma io ne ho viste di tutti i colori in 50 e più anni di calcio, non so. Ho visto perdere Scugetti all'ultima giornata, tizia. Ho capito, ma c'è una realtà diversa. La pandemia ha creato una situazione, una situazione assoluta. Non ho detto che. Non è mica detto. Però certi risultati sono stati sorprendenti proprio per quei motivi. E allora? E allora non diamo per scontato che. È chiaro che sulla carta non c'è partita. Però, attenzione, gli sbilanciano, perché dopo si fa anche la figura di mente. E invece per concludere il direttore, l'Inter sulla corsa Scudetto? Ma secondo me in questo momento è favorita, l'unica squadra che potrebbe diventare. Ma il direttore le vinceva tutte. Che scoperte del mio. Se capitava in quelle condizioni le vinceva tutte. Ma al tempo di Carlo Cudega, per forza. Al tempo di? Sì, è un parente di... Commenti a rapito di Alberto? Di Sarugge. Che poi abbiamo una pubblicità sull'Inter? Il calendario dell'Inter? Vai in pubblicità. Va bene, ci fermiamo. Attenzione, attenzione, attenzione. Come per annunciato all'inizio della nostra puntata, domani, ore 20.45, Juventus e Torino scenderanno in campo per il derby della Mole. Come la vediamo? Adesso ne parliamo. Oh, gol dell'Atalanta. Scusa, gol, gol, gol dell'Atalanta. Ha segnato Gin City. Colpo di testa direttamente sul calcio d'angolo. È arrivato il pareggio. Eccolo qui, lo aveva cercato. Un quarto d'ore soltanto da Atalanta. Meritato pareggio da parte del difensore albanese che così sigla una rete meritata. Primo gol in Europa League per lui. Dunque 1-1. Tutto da rifare. Bene, dai. Chiudiamo bene. Anche perché ricordiamo per chi non fosse collegato per... Io vorrei sapere, scusa Tiziano, vorrei sapere che significa quello che ha detto, perché non capivo molto bene il personaggio che hai citato. Carlo Kutega è un... No, 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 no. Quando Franca ha detto Mogile Viciatu ti aveva ragione. Tu che cosa hai detto per il personaggio che hai citato? Erano tempi di Carlo Kutega. E chi è Carlo Kutega? Uno, uno, un suo amico. No, è amico suo. Va bene. No, è amico suo.